Un super esperto per una nuova perizia. Ieri al Tribunale dell'Aquila c'è stata una nuova udienza in cui è stata disposta un'alta perizia per verificare lo stato dei piloni e delle pile dell'autostrada 24 e per scongiurare eventuali pericoli. La perizia tecnica è stata disposta dal GUP Guendalina Buccella nel procedimento avviato contro i vertici di strada dei parchi per omessa manutenzione ordinaria e uso di fondi pubblici per finalità estranea a questo presupposto. L'incarico sarà conferito ad inizio del mese di dicembre. a occuparsi della perizia sarà l'ingegner Berardino Chiaia del Politecnico di Torino, una figura che l'Abruzzo già conosce bene perché è il periodo della procura nel processo di rigopiano. Questa nuova perizia disposta in questo procedimento è la terza perché arriva dopo quella della procura e dopo quella di parte. L'ufficio legale della concessionaria strada dei parchi fa sapere che il giudice non ha fatto altro che accogliere la richiesta di incidente probatorio formulata nella prima udienza per accertare o escludere eventuali pericoli di crollo dopo gli adeguamenti eseguiti, elemento non riscontrato, dicono nella loro perizia di parte eseguita dall'ingegner Marco Pietrangeli della Sapienza di Roma. Ovvio che la necessità di questa nuova perizia allunga un po' i tempi ma la definizione del tutto potrebbe avvenire comunque in tempi brevi. In merito alla sicurezza delle autostrade 24 a 25 sono state indagate per mancata manutenzione quattro figure apicali di strada dei parchi. Le ipotesi di reato formulate dalla procura sono diverse. In questo procedimento a parte civile anche la Feder Consumatori Nazionale. Il legale dell'associazione ha dichiarato che bisogna vedere se al tempo della contestazione erano stati fatti i lavori. Se sì il rischio crolle diminuisce, un capo di imputazione può accadere ma per lui rimangono in piedi altre condotte rilevanti penalmente.